Rifiuti, ancora problemi per Ispica, Vittoria, Pozzallo e Scicli. Stamane un nuovo incontro alla SRR Ato Ambiente Ragusa per analizzare l'ultima ordinanza di Crocetta. Dietro l'accoltellamento che si è registrato lunedì in piazza San Giovanni ci sono motivi legati alla droga. Ad essere arrestato Alessandro Greco che ha accoltellato al volto una donna romena. Il manager Ari Co chiarisce sui consulenti dell'azienda. Mi dispiace deludere i senatori che hanno presentato l'interrogazione ma Ragusa non ha consulenti. I numeri su cui si attaccano fanno parte dei servizi offerti. Una città abbandonata quella di Ragusa per il PD. Erbaccio ovunque, monumenti lasciati in condizioni di precaria sicurezza, chiese chiuse e mancanza di segnaletica. A denunciarlo Mario D'Asta, capogruppo del PD al Consiglio Comunale. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del Telegiornale. In apertura torniamo a parlare dell'emergenza rifiuti in provincia di Ragusa dove si registrano ancora criticità in particolare nei comuni di Vittoria, Ispica, Pozzallo e Scicli. Stamani nuovo incontro alla SRR Ato Ambiente Ragusa per analizzare l'ultima ordinanza del presidente Crocetta rispetto anche alle esigenze dei comuni. L'emergenza rifiuti in provincia di Ragusa è tutt'altro che superata. L'ultima ordinanza emanata dal presidente della regione Rosario Crocetta con cui si riorganizza la raccolta e il conferimento dei rifiuti in discarica non aiuta a superare le criticità. Oggi la società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti per l'ambito territoriale ottimale di Ragusa si è nuovamente riunita per mettere nero su bianco sulle difficoltà che i comuni ancora registrano. La situazione resta sempre critica perché comunque la Sicilia resta in emergenza. Poco fa abbiamo appreso che a Bello Lampo ci sono dei problemi e quindi probabilmente quello di cui oggi stiamo discutendo potrebbe essere travolto già dopo due giorni. Per cui lo stato è di assoluta emergenza e l'impegno di tutti deve essere nella riduzione dei rifiuti. Abbiamo fatto un monitoraggio per quanto riguarda i comuni, su quanti rifiuti ci sono a terra e fortunatamente sono pochi i comuni che hanno questo problema. Abbiamo visto che i conferimenti assegnati dalla regione per molti dei comuni della provincia sono anche insufficienti. Quindi è chiaro che ci muoviamo su un terreno molto friabile e molto delicato. Mentre otto comuni blei sono riusciti a smaltire l'accumulo di rifiuti, ancora lontani dalla normale amministrazione, Pozzallo, Ispica, Scicli e soprattutto Vittoria che hanno ancora residui da smaltire con cassonetti che si presentano ancora a stracolme di immondizia. La situazione a Vittoria ancora non è rientrata, anzi ci sono tantissimi rifiuti ancora per strada, circa 350 tonnellate. Sì, purtroppo i ritardi avuti alla discarica di Lentini con le file anche di 24-30 ore spesso ci hanno fatto saltare dei turni. Quindi abbiamo una fortissima quantità di tonnellate di immondizia nelle periferie, comunque nelle circonvallazioni, negli stradali, nei borghi, non al centro. Il centro è molto pulito, Scoglitti è molto pulita. Ma in periferia sì, quindi stiamo cercando un attimo di trovare delle soluzioni, ma queste sono soluzioni che la regione deve trovare. Noi comuni non abbiamo alcuna possibilità di trovare soluzioni né immediate né autonome. Anche Santa Croce, comune della fascia costiera eblea, ha difficoltà ad applicare l'ordinanza del Presidente, soprattutto per centrare l'obiettivo del 3% della raccolta differenziata entro la fine di agosto. Il problema per i comuni che si affacciano sul mare, che in estate, nel periodo estivo, soprattutto nei periodi di luglio ed agosto, soprattutto per noi comuni più piccoli, la popolazione è triplica, quindi non è assorbibile da quello che è l'ordinaria gestione. Quindi questo è stato un po' il problema che è emerso in tutta la sua virulenza, diciamo. Il Commissario e il Presidente dell'SRR, il Sindaco Fornaro, sullo storico stanno cercando di portare avanti questa situazione per chiedere alla regione di tenere conto dello storico, in un'ottica sempre di contenimento di quello che può essere la raccolta differenziata. Siamo solidali nei confronti del Ministro Galletti e dello staff tecnico del Decastero dell'Ambiente per lo sforzo con il quale affrontano la complicatissima vicenda dell'emergenza rifiuti in Sicilia. È inevitabile però nutrire dubbi sulla capacità del Presidente della Regione Crocetta a mantenere gli impegni assunti oggi. Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Ambiente del Senato, Giuseppe Marinello, a margine dell'incontro tra il Ministro dell'Ambiente e il Governatore della Sicilia. Se ritardi e inadempienze dovessero continuare, ha proseguito, sarà necessario assumere decisioni drastiche, a cominciare dal commissariamento che esautori il Governatore Crocetta ed accompagni i siciliani verso il ritorno alla normalità. Duplice tentato omicidio ai danni di una donna rumena e del suo fidanzato di origini albanesi. Sono scattate le manette nei confronti di un trentenne vittoriese, Alessandro Greco. I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio del 19 luglio a Ragusa, in piazza San Giovanni. La polizia ha ricostruito i fatti e il movente dopo le testimonianze delle vittime e dopo i riscontri delle telecamere di videosorveglianza. Vediamo. Trent'anni, vittoriese, assuntore di sostanze stupefacenti, pregiudicato. Alessandro Greco è stato arrestato dalla sezione volante della squadra mobile ieri con l'accusa di tentato duplice omicidio ai danni di una rumena di 25 anni e del suo compagno. Lei sta bene, ma il bersaglio non era la ragazza, il suo fidanzato. Per capire meglio cosa è successo il pomeriggio del 19 luglio in piazza San Giovanni a Ragusa, dobbiamo tornare indietro di qualche giorno, il 14 luglio. Quel giorno era stato arrestato un ragusano Salvatore Scatà con un albanese Elvis Maloccu di 18 anni fidanzato della vittima, poi rimessi in libertà. Loro due erano stati presi in fragranza di reato dalla squadra mobile mentre cedevano droga a un ragazzo, che è Greco, l'arrestato per il duplice omicidio. È da questa fase che la polizia, dopo giorni di indagini e riscontri incrociati, ha ricostruito il movente, la droga. Greco voleva vendicarsi perché, secondo lui, gli era stata venduta da Maloccu una dose non corrispondente all'importo da lui pagato e per questo era molto arrabbiato con il giovane albanese. Un'altra ipotesi, connessa sempre all'acquisto della droga, secondo la polizia, potrebbe essere legata al timore di Greco di venire punito dall'albanese per avere riferito alla polizia da chi aveva acquistato lo stupefacente. Pertanto avrebbe anticipato la ritorsione cercando di uccidere il giovane e la sua fidanzata. La ricostruzione dei fatti è stata confermata dalle dichiarazioni dell'albanese della giovane in sede, separata, che ha confermato quanto ha riferito il fidanzato e ulteriori riscontri, a sostegno della dinamica resa dei due ragazzi, sono stati forniti dalle telecamere di videosorveglianza installate in piazza San Giovanni, nell'ambito del patto Ragusa siglato dalla prefettura e dal comune dai rappresentanti delle forze dell'ordine. La polizia, subito dopo il fatto di sangue, ha rintracciato il fidanzato della donna, il quale ha raccontato che mentre si trovava all'interno del portico dell'ex palazzo Ina, in compagnia della fidanzata, ha visto arrivare Greco, che con passo deciso si è rivolto verso di lui brandendo un grosso coltello da cucina e ha tentato di colpirlo con forza. Lui è riuscito a schivare il colpo. La ragazza, invece, è stata ferita alla testa. Subito dopo, Greco, impugnando il coltello, ha continuato a minacciare il giovane fino a quando si è allontanato dalla piazza per essere immediatamente dopo bloccato dagli agenti. Il coltello, tipo macellaio, con una lama di 20 centimetri intesa di sangue, di ciocche e di capelli della vittima, è stato sequestrato. La 25enne, condotta all'ospedale civile di Ragusa, guarirà in 15 giorni. I medici hanno sotturato la ferita e mandato in osservazione la donna per una ferita all'acero contuse da taglio alla testa e trauma cranico. Da ieri, per questi reati contestati, è considerata la sussistenza delle esigenze cautelari greco e ristretto nel carcere di Ragusa. Maxi sequestro da parte delle fiamme gialle del comando provinciale di Ragusa di prodotti non conformi agli standard di sicurezza nazionale ed europea e quindi non sicuri. L'operazione, condotta dai militari della tenenza di Pozzallo, ha portato al sequestro di oltre 160.000 articoli. 160.000 prodotti non sicuri erano in vendita in un negozio di cinesi in pieno centro a Pozzallo. La guardia di finanziaria ha sequestrato bigiotteria, oggetti da regalo, giocattoli e cosmetici, tutti già sistemati sugli scaffali a disposizione dei consumatori che, se utilizzati, avrebbero provocato gravi danni alla salute. I prodotti non erano conformi agli standard di sicurezza nazionale ed europei, pertanto non sicuri. Le irregolarità riscontrate riguardano una serie di violazioni al codice del consumo dovute alla commercializzazione di prodotti non sicuri in quanto sprovvisti di certificazione ed etichettature relative alla loro provenienza e alla composizione merceologica. Informazioni importanti per la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori devono quindi essere ben esibiti nell'etichetta dei prodotti in vendita. Gli articoli sono stati sequestretti. Il titolare è segnalato alla Camera di Commercio di Ragusa che è l'organo competente alle erogazioni delle sanzioni amministrative. L'operazione anticontraffazione è stata eseguita sia per tutelare i consumatori sia gli imprenditori onesti. La contraffazione è una tipica manifestazione di illegalità economica finanziaria strettamente connessa con l'evasione fiscale e contributiva, con lo sfruttamento del lavoro nero e regolare, con il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con il riciclaggio e il riempiego dei proventi illeciti. Per tutelare i consumatori dal 2014 è consultabile il sito internet siac.gdf.it, un'innovativa piattaforma informatica che illustra il sistema informativo anticontraffazione che è una progettualità cofinanziata dalla Commissione Europea e affidata dal Ministero dell'Interno alla Guardia di Finanza, dove sono offerti tra l'altro ai cittadini informazioni e consigli utili sul mondo della contraffazione. Sul homepage che vi mostriamo quindi è possibile trovare l'informazione per i consumatori, informazioni sulla cooperazione tra gli attori istituzionali, in particolare tra le forze di polizia e tra queste le polizie municipali, e sulla collaborazione tra le componenti istituzionali e le aziende. Sono quattro i presunti scafisti arrestati dalla squadra mobile di Ragusa e che avrebbero condotto i gommoni con a bordo 649 migranti, arrivati ieri al porto di Pozzallo. Le innagini della polizia continuano, in quanto sono stati più natanti quelli soccorsi, 500 gli extracomunitari già trasferiti in altre strutture. Sentiamo. Sono quattro i presunti scafisti fermati dalla squadra mobile di Ragusa, sarebbero responsabili dello sbarco di ieri, 649 migranti arrivati al porto di Pozzallo, di cui 103 donne e 49 minori non accompagnati. Si tratta di Omar Diouf, gambiano di 20 anni, Mosu Salomons, nigeriano di 37 anni, Chris Amadasan, nigeriano di 20 anni e Moses Meruama, nigeriano di 32 anni. Inoltre la polizia di Stato ha anche arrestato Ife Anvi Okeleke, nigeriano di 33 anni. L'uomo, da un'attenta analisi dei risultati del sistema di rilevamento delle impronte digitali, aveva fatto ingresso in Italia dopo essere stato espulso con accompagnamento coatto in Nigeria nell'aprile scorso. Aveva commesso numerosi reati. Sono stati cinque gommoni soccorsi. Le modalità sono sempre le stesse. Dopo una breve permanenza presso i capannoni in Libia, i migranti sono stati fatti salire a bordo di gommoni e dopo otto ore di navigazione sono stati soccorsi. Sono stati testimoni ad aiutare la polizia nell'individuazione degli scafisti che hanno condotto i gommoni. Devono rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Tutti e quattro sono stati condotti presso il carcere di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Intanto la polizia di Stato ha trasferito immediatamente, dopo il fotosegnalamento, 500 migranti. Gli altri saranno trasferiti nelle prossime ore. Nel 2016 all'hot spot di Pozzallo hanno già fatto ingresso 9.994 migranti in occasione di 25 sbarchi. Altri 17 cadaveri sono stati recuperati dalla nave irlandese James Joyce su un barcone a largo della Libia, 2.937 i morti nel Mediterraneo nel 2016, il doppio dello scorso anno. Dopo il drammatico scenario dei 22 morti recuperati a largo della Libia dalla nave Aquarius, ieri pomeriggio un nuovo orrore è stato individuato dalla nave militare irlandese James Joyce. Da un barcone in legno carico di migranti sono state tratte in salvo 452 persone. Nella stiva però un'altra straziante scoperta. 17 cadaveri, tutti uomini, tra cui un minore. Sarebbero morti per asfissia provocata dai gas, discarico del motore del barcone. Un bilancio che si aggrava di ora in ora e che conta 1.128 migranti salvati nelle ultime 24 nel canale di Sicilia e in otto diverse operazioni. Tra i soccorsi è anche un uomo di 73 anni e un bambino di appena 7 mesi in viaggio con la famiglia. Barconi fatiscenti, gommoni in pessimo stato e due piccoli natanti sono le imbarcazioni con cui si erano messi in viaggio sperando di arrivare a destinazione. Alcuni però non ce l'hanno fatta. Intanto gli sbarchi sulle coste siciliane proseguono ad un ritmo spaventoso. A Catania la nave spagnola Reina Sofia di Euna Formed ha trasportato 841 profughi e un cadavere. Non si placano nemmeno le polemiche sull'accoglienza delle migliaia di persone che arrivano nei porti siciliani. Per Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di ANCI Sicilia, i numerosissimi sbarchi degli ultimi giorni aggravano in maniera esponenziale una situazione già molto difficile e aggiunti alle attuali presenze rappresentano per i comuni siciliani i luoghi di sbarco, una criticità insostenibile, specie sul fronte dei minori non accompagnati. Il governo nazionale aveva promesso di trasferirli in altre regioni, promessa però mai rispettata. Tre comuni in maggiore difficoltà a Augusta, dove si viaggia su cifre record che superano ogni altro approdo in Sicilia, anche con arrivi di 1139 persone in un solo giorno. Controlli intensi nei giorni scorsi da parte della Polizia Stradale di Raguse e Vittoria, che ha contestato una serie di infrazioni nel territorio provinciale. Dall'inizio di luglio complessivamente sono state ritirate ben 21 patenti per sorpassi in curva. Vediamo il bilancio nel nostro servizio. Un furgone frigo trasportava la carne in condizioni igieniche generali precari, accanto ai sacchi di spazzatura. Il conducente è stato sanzionato per un importo di 1000 euro. È stata la Polizia Stradale ad aver reinchiudato l'autotrasportatore a Pozzallo nel corso dei servizi di controllo del territorio. Nelle scorse settimane erano pervenute più segnalazioni da parte dei cittadini sul rischio procurato dalla circolazione di mezzi agricoli privi di targhe. Sono stati effettuati controlli con il sequestro di due veicoli sulla Ragusa Catania, uno privo di targa ripetitrice senza assicurazione e un altro che superava i limiti di sagoma senza la preschietta autorizzazione. La strada ha intensificato i controlli sulla Ragusa Catania, sulla Ragusa Mare e sulla strada provinciale 63 Marina di Ragusa, Donna Lucata, anche per contrastare le condotte di guida più pericolose come l'eccesso di velocità, la guida sotto l'effetto di alcol e i sorpassi in curva. Nove patenti sono state ritirate per i sorpassi in curva a 21 dall'inizio di luglio. Per l'eccesso di velocità l'impiego del telelaser in più giornate ha visto la contestazione di 14 verbali e ritiro di due patenti nei confronti di conducenti che hanno superato gli oltre 40 km orari di limiti di velocità. In particolare sono stati elevati 5 verbali sulla strada provinciale 63, la Marina di Ragusa, Donna Lucata, 5 sulla Ragusa Marina di Ragusa e 4 sulla Ragusa Catania. Infine per quanto riguarda i servizi volti a prevenire le stragi del sabato sera durante i controlli eseguiti a Ragusa, sulla Ragusa Catania, Santa Croce e Pozzallo, sono stati trovati 4 conducenti positivi all'alcol test, tutti denunciati alla Procura per aver superato la soglia del tasso alcolemico dello 0,80. I controlli continueranno nei prossimi giorni al fine di garantire un fine settimana più sicuro sulle strade Ible. Sono 11 i senatori che hanno presentato un'interrogazione al Ministero della Salute riguardo all'attività amministrativa dell'ASP7 di Ragusa. I senatori, fra cui la Sciclitana Venera Padua, mettono in evidenza come il manager dell'ASP Maurizio Arricosi sia avvalso di oltre 300 consulenze, mentre a Palermo, ente decisamente più grande rispetto al ragusano, sono solo 5. Una sproporzione su cui gli 11 senatori vogliono vederci chiaro e il manager risponde. 337 consulenti per l'ASP di Ragusa, uno tra gli enti più piccoli della regione, quasi uno per ogni giorno dell'anno, mentre l'azienda sanitaria provinciale di Palermo si avvalsa solamente di 5. Un rapporto evidentemente sproporzionato che è messo in risalto da un'interrogazione inviata al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, da 11 senatori tra cui figura la firma della senatrice del PD, Venera Padua. Sull'argomento non si fa attendere la replica da parte del manager dell'ASP, Maurizio Arricò. Sono rammaricato di dover dire che in questo momento l'azienda non ha consulenti pagati. Allora, è davvero imbarazzante per me dire che forse noi non siamo stati sufficientemente chiari, ma non possiamo accettare che si dica che noi abbiamo 377 consulenti, ovviamente suggerendo che questi sono consulenti pagati e magari pagati molto. Ritengo che l'informazione a cui fa riferimento la senatrice Padua sia derivata da un documento che l'azienda, come tutte le aziende sanitarie, ha fornito alla Corte dei Conti nel mese di febbraio. In questo documento noi eravamo chiamati a riassumere il numero e la tipologia delle prestazioni erogate dall'azienda, divise per tipologia. Nella intestazione di quella colonna è compresa anche la parola consulenti. In quell'aggregato sono comprese 159 prestazioni che sono le prestazioni aggiuntive fatte dai nostri dipendenti. Sono comprese anche 60 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che sono i cosiddetti COCOCO, di cui 60 sanitari e 16 non sanitari. È stata illustrata stamani dai componenti Il Tavolo Verde Sicilia la nuova strategia per rilanciare l'agricoltura nel corso di un incontro con i giornalisti che si è svolto alla Camera di Commercio di Ragusa. Una serie di interventi chiesti ai governi nazionale e regionale per uscire dalla profonda crisi in cui si trova il settore. Lanciata anche una provocazione, o si cambia o Agrexit. I governi nazionale e regionale non hanno una politica agricola. In campo c'è solo l'Unione Europea. La PAC, la politica agricola comune, discrimina i prodotti ai paesi mediterranei e tutela le grandi aziende agricole, prevalentemente continentali, a svantaggio delle piccole e medie. La regione spende poco, male e ritardo le risorse finanziarie trasferite dall'Unione Europea con i piani di sviluppo rurale. La crisi è drammatica e la realtà insostenibile. Duro atto d'accusa del Tavolo Verde Sicilia, che chiede spiegazioni del fallimento di ogni iniziativa portata avanti negli ultimi anni, mentre il comparto muore e il territorio è condannato alla povertà. Chiesti quindi interventi per uscire dalla crisi profonda in cui si trova il settore, altrimenti affermano provocatoriamente o si cambia o Agrexit. Affrontare le crisi di mercato, affrontare il nodo dei costi di produzione, trasporti, energie e così via, affrontare i temi e i rapporti con la grande disoluzione organizzata, affrontare i problemi della concorrenza sleale e delle frodi alimentari, affrontare il problema dell'attacco delle agromafie alla filiera agricola. Tutto questo è la politica del credito, o si affrontano questi problemi e noi speriamo che si affrontano negli interessi dell'agricoltura dei produttori agricoli, o noi, considerando che tutte queste cose vengono frenate di volta in volta e non si può fare perché l'Unione Europea non è d'accordo, non si può fare perché non è prevista dalla PAC, non si può fare per quest'altro motivo, allora noi non ci stiamo a questo meccanismo infernale, per cui non si può fare nulla. Le aziende muoiono e si rafforzano le agricolture continentale e le agricolture delle grosse aziende. Adesso ci separiamo per la pubblicità, a dopo. Ben ritrovati e torniamo a parlare di Ragusa. I monumenti della città si presentano un poco curati e in alcuni casi abbandonati. Ad intervenire su quanto sta accadendo a Ragusa è il Partito Democratico. Il patrimonio UNESCO, secondo il Partito, deve essere immediatamente curato. Gli enti hanno il dovere di tutelare i nostri beni architettonici, artistici e paesaggistici. Sono la nostra storia. Sono la testimonianza tangibile dell'esistenza prima di noi. Siamo noi stessi. Se si applicassero questi semplici concetti, sicuramente questo servizio giornalistico non avrebbe avuto bisogno di esistere. Ma sfortunatamente la realtà dei fatti è un'altra. A Ragusa il patrimonio UNESCO è abbandonato a se stesso, come se a qualcuno non importasse. E' questa la denuncia che arriva dal PD della città. Ieri pomeriggio il capogruppo al Consiglio Comunale e Presidente dell'Assemblea Provinciale del PD, Mario D'Asta, insieme al responsabile dell'area culturale del Partito Democratico, ragusano, il maestro Franco Cilia, hanno scelto di passeggiare tra i vicoli storici e non solo della città per denunciare lo stato di degrado. Se da una parte l'erbetta cresce spontanea per le vie del centro, con particolare riferimento al quartiere Eceomo, la situazione non cambia anche sulle chiese barocche. Calamita per i turisti, che in alcuni casi si trovano addirittura bloccati dal potervi entrare, o per gli orari di visita, ristretti ad un solo giorno alla settimana, o perché qualcuno, forte dell'assenza dei divieti, parcheggia dinanzi ad esse, rendendole impraticabili. Il monumento ai caduti della stazione di Ragusa, oltre a presentarsi pericolante, ha attorno a sé cocci di vetro, bottiglie rotte e calcinacci per terra precipitati dallo stesso monumento. Adesso è necessario restaurarlo, dicono dal PD. Una città abbandonata, detta del Partito Democratico, che crede che la forza della stessa città sia proprio il turismo e da qui che si deve partire per il futuro. Da un lato i disservizi per i residenti, dall'altro i disservizi per i turisti. Ancora non abbiamo una segnaletica idonea ed efficiente che possa portare le persone da Comiso a Ragusa-Ibla. Mancano i parcheggi, c'è un degrado complessivo sul verde. Ancora le chiese sono chiuse e quindi ci sono tutti gli elementi per bocciare le politiche complessive della giunta grillina. A non essere risparmiata, secondo i rappresentanti del PD, da quello che definiscono un disastro a 5 stelle, anche il parco. I giardini Iblei si presentano impreparati ad accogliere i fruitori. Potevano aspettare dei mesi invernali per poterli fare, ora meglio hanno scelto quelli infernali, che vale di più. Le immagini parlano chiaro, c'è poco da dire. L'amore per la cultura, per i beni culturali in questa città, ahimè, non c'è. Mi due il cuore da vecchio Iblei o vedere i turisti che girano smarriti e che non sanno dove si trovano. Secondo lei manca anche una programmazione? Assolutamente sì. E di diagnostica reticolare non distruttiva si è parlato ieri sera nel corso del convegno che si è tenuto a Ragusa. Si tratta di un'innovazione non invasiva per lo studio dello stato di salute di opere d'arte, edifici, monumenti ed impianti industriali. Vediamo. L'Italia è il più grande giacimento di opere d'arte e di tesori culturali al momento e al suo interno la Sicilia ne custodisce una quota rilevantissima. Preservarne lo stato di salute è perciò un bisogno fondamentale, sia per il dovere assoluto dal punto di vista storico e morale rispetto alle future generazioni, che è per il valore economico e sociale della loro fruizione. Una grande opportunità a questo fine è offerta da una recente invenzione tecnologica. Un robot portatile è capace di analizzare ai raggi X lo stato di salute di opere d'arte, edifici, monumenti ed impianti industriali, identificando eventuali minacce e microlisioni presenti nella struttura profonda della materia. Si chiama DIFROB ed è opera dello scienziato Giovanni Berti, docente di scienze dei materiali nell'Università di Pisa. È basato su un irraggiamento, un irraggiamento puntuale di un elemento da indagare, utilizza i raggi X e poi questi raggi X vengono rilevati. Che cosa utilizza del materiale? La forma reticolare. Tutti i materiali con cui noi ci confrontiamo, abbiamo a che fare, sono dei materiali costituiti dai reticoli. È la variazione, il modo con cui gli atomi si aggregano in questi reticoli, il modo con cui si muovono all'interno di questi reticoli, nel modo con cui reagiscono alle sollecitazioni che ci danno le indicazioni per dire se questo materiale è qualificato per l'uso, può essere riumologato per proseguire nel tempo, oppure deve essere sostituito, mantenuto, conservato e così restaurato. La misurazione reticolare è una metodologia che il professor Betti ha messo a punto in decenni e decenni di studio verso l'Università di Pisa, rappresenta uno dei punti di eccellenza per l'Italia, basta pensare che in tutto il mondo esistono 3-4 operatori del genere. Noi abbiamo la fortuna di averlo qui a Ragusa, a seguito dell'esperienza iniziata nel 2009 a Palazzo Pandolfi a Pozzarlo quando mi occupavo all'epoca del fascicolo del fabbricato e oggi ha avuto un'evoluzione molto molto importante. L'applicazione più immediata che già alcune istituzioni hanno registrato, quale per esempio il comune di Modica, per la verifica dei solai nelle scuole per me l'ha messa in sicurezza. Una svolta negli interventi diagnostici e nel restauro delle opere d'arte. Finora era necessario prelevarne campioni da analizzare il laboratorio con effetti invasivi e progressivamente distruttivi dell'opera stessa. Oggi l'analisi viene compiuta sul posto grazie a questo robot specializzato nella diagnostica precoce. È un convegno svolto qua a Ragusa, abbiamo invitato il professore Berti che è uno scienziato di fama mondiale, sicuramente a livello europeo è la persona più qualificata, inventore del diffruttometro robotizzato. Praticamente si porta in cantiere la diffruttometria da laboratorio con evidenti vantaggi sia economici che nella diagnosi precoce. Nuove aperture di punti vendita a Conad Sicilia in tutta l'isola. Un'azienda che oltre ad essere conosciuta per il suo brand a livello nazionale mira a creare nuovi posti di lavoro. 110 il numero raggiunto per le nuove assunzioni. Sono 110 nuovi posti di lavoro creati da Conad Sicilia, una nuova cooperativa nata dalla fusione di Sicil Conad e Conad Sicilia. A cinque mesi dalla sua nascita Conad Sicilia ha potuto ampliare la sua offerta con l'apertura di 11 nuovi punti vendita distribuiti nel territorio siciliano e non finisce qui perché l'azienda avrà in programma ben 10 nuove aperture. La nuova cooperativa può fare affidamento sui 346 punti vendita che puntano a soddisfare le richieste dei clienti. Clienti che hanno già ricevuto il primo segnale da Conad Sicilia con l'iniziativa Specialissimi che ha concesso ai consumatori l'opportunità di selezionare prodotti delle migliori marche secondo le esigenze dell'acquirente. Essendo più forti nel mercato ovviamente ne stiamo dando vantaggi ai soci e ai consumatori e rafforzando la leadership nel nostro territorio. Siamo riusciti dal punto di vista marketing a portare avanti quest'anno tre iniziative proprio per consolidare la nuova fusione che si stanno dando una visibilità maggiore nel mercato o specialmente a confronto del consumatore. Su scala nazionale Conad ha chiuso un 2015 con un fatturato di 12,2 miliardi di euro 490 milioni in più rispetto al 2014 con una quota di mercato pari all'11,9%. I dati del 2015 spiega l'amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese sono il risultato del lavoro di un gruppo coeso. La fusione è avvenuta il primo marzo di quest'anno quindi stiamo parlando veramente di pochissimi mesi però i risultati ci confortano molto e in particolare la cosa che mi sta più a cuore è il risultato che stiamo avendo rispetto ai competitor, rispetto al mercato. La cosa che mi dà ancora più soddisfazione è sicuramente lo sviluppo che stiamo già lanciando in Sicilia con l'apertura di diversi punti vendita e ad oggi possiamo dire che abbiamo dato 110 posti di lavoro incrementali e ce ne sono almeno altri 55 entro settembre per le nuove aperture che ci saranno su Palermo. Ottimo riscontro di passeggeri per il servizio bus di collegamento fra Ragusa e Marina di Ragusa avviato l'8 luglio scorso. I dati raccolti dall'8 luglio alle 17 evidenziano infatti un crescente numero di passeggeri specialmente nelle ultime corse. L'indice più alto di passeggeri si è registrato nei due sabati monitorati 9 e 16 luglio con 22 presenze il 9 luglio nella corsa delle 2.30 ed il 16 luglio con 32 presenze nella corsa di mezzanotte e mezza 35 in quella delle 2.30. L'azienda Autotrasporti che espleta il servizio ha fatto sapere che già da oggi 22 luglio il servizio di collegamento Ragusa-Marina di Ragusa sarà svolto tutti i giorni fino alle ore 2.30. Sono stati modificati gli orari di apertura del castello di Donna Fugata per il periodo che va dal 26 luglio all'11 settembre. Il lunedì rimane chiuso da martedì alla domenica e aperto dalle ore 9 alle ore 19. Per la festività del 15 agosto il castello rimarrà aperto sempre dalle ore 9 alle ore 19 mentre per il 29 agosto rimarrà chiuso. La permanenza all'interno del castello di proprietà comunale sarà consentita entro e non oltre le ore 19 e 45. Non ci sono altre notizie dunque il telegiornale termina qui. Buon proseguimento sulle nostre reti.